Iesolo prolunga la stagione, tempo permettendo almeno fino a metà ottobre. Un tentativo per recuperare qualcosa in un'estate difficile che causa coronavirus è andata male, ma non malissimo. Se non altro la costa ha la fortuna di reggersi sul turismo di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. Un vantaggio rispetto alle città d'arte dove pesano maggiormente il Nord America e l'Asia. Prevedevamo un calo di fatturati intorno al 50%, il calo di fatturato medio si assesta intorno al 45%. Questo non è un dato per tutti chiaramente perché il 45% è la media, quindi c'è chi è andato oltre con cali che arrivano al 55% abbondanti e chi chiaramente è chiuso con qualcosa meno, con cali intorno al 40%. Ora la preoccupazione è capire se e quante strutture abbiano guadagnato abbastanza da poter attraversare l'inverno e rimettersi in attività all'estate prossima. Troppo spesso in Italia si parla dell'oro nero, del petrolio d'Italia, quando si parla di turismo, ma sommessamente ricordo che in quei paesi dove hanno il petrolio investono in quel settore, in Italia non investiamo neanche minimamente una quota a parte di quello che il turismo genera. Ricordiamo che è il 13% del PIB nazionale, solo se guardiamo strettamente il turismo, solo allarghiamo l'indotto probabilmente andiamo ben oltre il 25%. Iesolo poi a metà luglio ha dovuto fronteggiare l'emergenza rappresentata dal focolaio di coronavirus scoppiato nel villaggio della Croce Rossa, con più di 40 ospiti di origine africana trovati positivi al Covid. Il weekend successivo allo scoppio di quel focolaio c'è stato un segno meno non così consistente come veniva appaventato, se nemmeno che poi in realtà sia protato all'inizio della settimana successiva perché c'è sempre bisogno di un periodo di assorbimento della problematica a parte delle persone per capirla. È chiaro che è stata una pessima pubblicità.